Nessuna squalifica nel Montevarchi dopo la bella vittoria di Ponte Egola e verrebbe da aggiungere meno male perché l'organico a disposizione di Venturi ha perso da un mese a questa parte diverse pedine di primo piano. Eppure proprio in un momento difficile anche a causa delle assenze a catena per infortunio il giovane gruppo rosso-blu ha avuto la forza di reagire e ritrovare un successo prezioso quanto meritato che li rilancia nella corsa ai playoff. Ora l'Aquila può guardare avanti con rinnovata fiducia e con il morale alto all'anticipo di sabato al Brilliperi con la Sinalunghese. Rispetto al confronto in casa del tutto cuoio mister Venturi non potrà contare su particolari recuperi almeno tra gli undici da schierare in partenza. Le uniche novità potrebbero arrivare in panchina con il ritorno di Salvadori e del 2001 a Matucci. Il primo peraltro si metterà a disposizione indossando una mascherina protettiva per evitare guai ulteriori al setto nasale. Quanto al giovanissimo del centrocampo valdarnese sta smaltendo ancora i postumi del guaio muscolare che gli ha impedito di giocare le ultime cinque partite. È probabile allora e tenuto conto anche delle due defezioni frati e regoli che al cospetto del rosso blu della valdichiana senese sia confermata la formazione iniziale di domenica scorsa. Magari con uno o due aggiustamenti legati alla rotazione degli under. Nel clan Montevarchino ad ogni modo nessuno si immagina che il confronto con la compagine allenata da Fani sarà facile. All'andata del resto il Montevarchi si impose di misura piegando solo alla distanza i chianini. Di sicuro la Sinalunghese venderà cara la pelle nonostante accusi un ritardo di 18 punti in classifica rispetto a Mannella e compagni. E per i padroni di casa le insidie non mancheranno sebbene gli ospiti lamentino nella trasferta del comunale di via Gramsci i forfèi obbligati per squalifica di Calveri e Vasseur. Di contro tornerà dopo il turno di stop disciplinare i chiasserini. L'ex principale del confronto il mediano fu uno dei protagonisti della promozione in serie di De Montevarchini due stagioni fa. Con la sua esperienza il giocatore che ha compiuto di fresco 30 anni darà un apporto di sostanza ad una squadra vogliosa di risalire la corrente.